Ah! Queste vibes! Torino-Udinese, veniamo da tre partite buone, sette punti, atteggiamento giusto, torti arbitrali contro Frasinone, l'alternata devastata, l'Empoli battuto, un buon gioco, una dimostrazione di superiorità, un atteggiamento giusto, buono linee di passaggio, buoni movimenti, qualità, precisione, un Senabri in grande crescita, Zapata ha fatto questi tre gol in due partite, buono così, con l'Udinese vincendo mi pare arriveremmo probabilmente sesti, che poi non vuol dire nulla perché la classifica è qualcosa di effimero quanto solo con la finale. In tutto ciò si innesta Radonich, la questione Radonich, che non viene fatto giocare, che va via gennaio, che potrebbe andare via gennaio, e io su questo l'ho già detto, veramente non mi esprimo e continuo a non capire come mai chi parla di Toro sempre non si scandalizzi per questa cosa, ma va a quanto pare tutto bene. Poi, quando saremo in difficoltà e cadremo, anzi rimarremo e vi accorgerete che non siamo nient'altro che mediocre, queste sono gioie effimere e sono soltanto dei pagliativi che vi gettano quando in realtà un obiettivo non c'è, eccetera, e penserete beh ci fosse qualcuno tipo Radonich eccetera, allora capirete che avevo ragione io, capirete che avevo ragione io, capirete che come sempre avevo ragione io. Buongiorno, ho fissato il prezzo, 35 milioni, Cairo sei qualcosa che uscilla fra il pagliaccio e il genio, passando da qualcosa di diabolico, nascosto da una maschera che sembra quella del cetola qualunque dei tempi che furono, ma banalità, robe, non lo so, buoni fazi, ma perché, ma io non voglio buoni fazi, poi io, Belotti, faccio anche fatica a nominarlo, ma veramente c'è qualcuno di voi che vorrebbe il ritorno di Belotti, ma voi siete pazzi, ma basta, le minestre riscaldate, no, ma l'avete capito, ma l'avete capito, ma cosa cazzo, che quale cazzo di senso ha un ritorno di Belotti, ma cosa minchia state pensando, cosa minchia state dicendo, domani frontiamo una squadra che è tipo quarto ultimo, una squadra assolutamente da battere senza se e senza ma, cioè non ci sono, non ci sono scuse, non ci sono scuse, quindi tenete a freddo le mani, applaudisti del cazzo, eh, squadra di Cioffi, eh, l'udinese di Cioffi, che è quarto ultimo, è una squadra da battere, poi all'interno della partita ci possono essere diverse situazioni, ok, ma rimane il fatto che non ci sono scuse, domani una squadra da battere, e basta, eh, il Toro sta trovando una formazione, una, sta trovando una compattezza, come gli stessi uomini, questa è una cosa che mi piace, eh, mi è sempre piaciuta, ci vuole continuità, pochi cazzi, bisogna avere il polso duro, bisogna capire che ci sono le riserve, ci sono i titolari, Ricci in questo momento, ehm, cioè non potendo giocare a Schultz, giocata a mezza, che è un grande, e centrocampo Ricci, forse domani torna, ma Ricci non sta riuscendo a essere Ricci per causa degli infortuni, e quindi a quel punto si mette lì netti, bah, ok, poi i Vlasi ci stanno un po' riprendendo, geneto su Sanabria che è fortissimo, Sanabria, chiaramente facendolo giocare migliore, vi fa vedere il suo lavoro di cucitore, quindi tanta roba, hm, io penso che, cioè in realtà non lo so, perché sul Toro non si può mai dire nulla, cioè non si può mai pronosticare, perché il Toro è una squadra dire strana e dire poco, ma sì, ma domani, allora, domani secondo me vinciamo, eh, cosa che solitamente non facciamo quando dobbiamo fare un salto di qualità, ma infatti non è un salto di qualità domani, sarebbe un basso a classifica che farebbe godere qualcuno, goderebbe anch'io, ma la classifica io non la sto guardando, ripeto, non lo so, su Radunic ci ho già detto, su Ricci questa cosa mi spiace, Linetti, voi mi dite che è Linetti, do sempre voti bassi in pagella, sì, può essere, ma con tutto il rispetto per Karol, che è una persona che, bah, mi sembra simpatica, ma a me non piace il fatto che mette quest'irruenza che gli costa poi dei falli assolutamente evitabili, cioè il fatto che un giocatore mette il ruenza, faccia falli, non è che, cioè io lo so che voi siete strani, ragazzi, lo so che voi siete strani, vi esaltate per cose, a mio avviso, senza senso, però bisogna un attimo uscire da questa mentalità per la quale se un giocatore ci mette una grinta stupida, perché Linetti ci mette una grinta a larghi tratti anche stupida, cioè va scordinato, fa dei falli, prima fai male all'avversario, non dico che devi giocare pensando di non fermare all'avversario, ma perché deve essere ovvio, cioè, Linetti sei pericoloso, cioè, amico mio, sei pericoloso proprio per l'incolumità, mi spiace dietro, e poi appunto non ha senso perché sono falli inutili, anche a centrocampo, da dietro, so che questa cosa è a voi esaltato, a me no, cioè, non me ne frega un cazzo, cioè, a me interessa vincere, poi che si vince, cioè, mi interessa vincere in maniera pulita, non so come dire, leale, poi laddove una grinta che fa sì che l'avversario allora si prenda male perché vedi che sei grintoso, ok, a quel punto tu mi depotensi l'avversario, ma Linetti lo guardi in faccia e sembra Karol, sembra una persona, è una persona buonissima, cioè, non so come far capire, quindi, ultima partita ho dato a Linetti dei voti abbastanza bassi nel video delle pagele, sì, perché a me a Linetti non piace come giocatore, punto, e non penso che mi piacerà mai, c'è qualcuno che dice che Linetti è indispensabile, ma se siamo ridotti al fatto che Linetti è indispensabile e poi è vero che certe volte servono dei giocatori magari un po' più grezzi, no, più interditori, ma laddove ci sono questi giocatori, in realtà, questo è un falso mito, perché anche i giocatori interditori in realtà hanno una qualità, parliamoci chiaro, ragazzi, dai, a me viene in mente Gattuso, ma Gattuso interdiva talmente tanto a modo suo che effettivamente, a parte che Gattuso aveva una grandissima lettura, lettura dei tempi di gioco, cioè non è paragonabile a Linetti Gattuso, ma al di là della grinta, per una questione anche non tanto di tecnica pura quanto di lettura del gioco, poi in realtà Linetti, secondo me, non fa cagare di base dal punto di vista anche della qualità di alcune giocate, però, che vi devo dire, ragazzi, eh, domani c'è questa puntata del Torocast, chiaramente, la puntata del Torocast, sì, chiaramente in diretta, parliamo della questione Depaz, scultura, opera di Depaz, Messa Superga e poi tolta, allora, io tra l'altro non ho ancora, quindi, andateci piano, lo dico anche a Depaz stesso o a chi altro, io ho contattato Depaz, ho contattato la ragazza che è della Model Cub, che ha fatto lo scultura, io non ho ancora detto la mia su questa cosa, la dirò domani, domani dalle ore 18.50 alle ore 20 con Marina Cismondi che si è scagliato contro Depaz sui social, è una situazione, secondo me, ambigua, ma non per i motivi che pensate, io non sono d'accordo, in effetti, con una serie di cose che sono state dette, o non per forza, a parte che mi sono su Facebook alcune persone che, pur avendo c'era con Depaz, sono a mio avviso delle persone quasi da, non quasi, sono da denuncia, quindi il fatto che io possa, mi possa stare non proprio simpatico, anzi antipatico Depaz, non vuol dire che io sei dalla parte di coloro che vanno contro Depaz in maniera sbagliata, quindi domani vedrete cosa ne penso, ci vediamo domani e secondo me l'Udinese finisce 5 a 1.